Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine dell'Itria, qual è il programma? Oggi ho portato un programma che potete trovare nelle diverse attività commerciali del paese. Il programma inizierà venerdì 2 giugno dalle ore 9.30 in piazza Itria, ci sarà la prima passeggiata ciclistica organizzata dalle diverse associazioni ciclistiche che ci sono a Favara. Poi invece alle ore 18, sempre del venerdì 2 giugno, ci sarà la sfilata dei cavalli organizzata dall'associazione Il Cavallo e per le iscrizioni e le assicurazioni vi potete rivolgere direttamente in piazza Itria in parrocchia. Si chiuderanno poi le iscrizioni giorno 29. La partenza sarà direttamente dal cimitero di Piano Traversa per le seguenti vie via Capitano Callea fino ad arrivare in piazzetta della Pace. Poi invece la domenica del 4 giugno alle ore 9.30 sempre ci sarà in piazza Itria il raduno delle auto d'epoca. Alle ore 9 e alle ore 19 ci sarà la Santissima Messa. Poi il martedì del 6 giugno alle ore 19.30 ci sarà la Messa sempre in onore della Beata Maria Vergine dell'Itria e a seguire ci sarà la processione per le diverse vie del paese, via Perjonenni, via Gofoscolo, sempre ad arrivare poi, si arriverà sempre all'Itria. Io volevo ringraziare in primis sempre Don Nicaloggio per aver reso tutto ciò perché è da diversi anni che non si faceva più questa ricorrenza. Volevo invitare la cittadinanza ad essere presente in massa per questo bellissimo evento. Grazie. 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 Grazie.